Primo match point per la promozione non sfruttato dal Zubiano con il pareggio a Rassina. I gialloblè rimangono con 8 punti di vantaggio sui biancoverdi a tre giornate dal termine con due partite da giocare per il Zubiano dato che riposerà all'ultima giornata. Partita che nel primo tempo non ha grandi occasioni, ci prova Falzini all'ottavo con un tiro da fuori al ventunesimo invece Poponcini di testa da calcio d'angolo a sfiorare il palo. L'episodio che segna il primo tempo è al trentaduesimo con Rubecchini che viene atterrato in aria da Ezechieli sul dischetto Vra Terzi che segna il suo quindicesimo gol in stagione. C'è un grande acquazzone tra il primo e il secondo tempo, si rientra in campo con il dubbio anche di giocare o meno ma pareggia il Rassina al cinquantaquattresimo minuto con Antonio Falzini. Dodici minuti dopo su un cross di Terzi, Koulibaly nel tentativo di metterla fuori la mette invece nella sua porta e torna in vantaggio il Zubbiano che però rimane solamente fino al settantaquattresimo quando Donofrio batte Lancini. La prossima giornata spetterà il Zubbiano in casa contro la Fulgol Castelfranco ultima in classifica, il Zubbiano che proverà a conquistare la categoria che gli spetta anche per la storia del calcio che rappresenta dopo tre anni di permanenza in prima categoria. Una partita tutto sommato bella, il campo e il tempo ci hanno un po' penalizzato credo comunque entrambe le squadre, a noi va bene così contiamo di festeggiare prossimamente in casa il campionato.